Stefano Pugnola, cosa propone la Lega Nord sul turismo? L'iniziativa è un progetto innovativo, non tanti punti, una dozzina per iniziare, ma è solo l'inizio di un lavoro che verrà poi sviluppato in caso di vittoria ovviamente, è sostanzialmente un progetto, un programma che arriva dagli operatori, quindi dagli addetti ai lavori, non calato dall'alto dalla politica, ma che anzi stimola risposte alla politica, in modo da trovare anche un collante, cosa che forse è sempre mancata, tra appunto il mondo istituzionale e politico e il settore, gli operatori. Senatore Centinaio, la Lega al Governo vuole rivendicare il Ministero del Turismo? Sì, la Lega al Governo rivendica il Ministero del Turismo perché riteniamo che sia necessario, necessario, visto l'importanza che ricopre il nostro settore, sia necessario che ci sia un ministero ad hoc, un ministero che possa essere d'accollante con tutte le regioni italiane, con tutti i privati, con tutti gli operatori e visto e considerato che siamo un settore che occupa circa il 12% del PIL, fondamentale un ministero che porti avanti tutte quelle proposte che servono a rilanciare il nostro settore dopo anni di immobilismo e dopo anni di dilettanti allo sbaraglio a gestire questo settore. Vogliamo rilanciarlo con la lotta all'abusivismo, vogliamo rilanciarlo per esempio con l'eliminazione della tassa di soggiorno, vogliamo lanciarlo con maggiore dignità a tutti quelli che sono gli operatori che lavorano appunto nel nostro settore e che stanno facendo grande il nostro paese. Cosa farete per gli operatori del turismo? Innanzitutto una defiscalizzazione, quindi una riduzione delle tasse per noi è fondamentale perché il problema che ci è stato evidenziato appunto dagli operatori è le troppe tasse che ci sono nel nostro paese. Una cosa che è molto importante come dicevo è la lotta all'abusivismo, oggi come oggi più del 40% del settore del turismo passa attraverso imprenditori o finti imprenditori che si inventano imprenditori del turismo senza pagare le tasse, di conseguenza meno tasse ma che le debbano pagare tutti. E poi anche una maggiore professionalità, l'istituzione di istituti dedicati al turismo in cui ci siano persone sempre più competenti, sempre più professionali che accolgano appunto i turisti, che vengono nel nostro paese oppure i turisti italiani che appunto decidono di stare in Italia.